quasi in oro 3 quasi in oro 3 attenzione troppo rischioso troppo rischioso vabbè ormai abbiamo perso qua no ho scelto iris per sbaglio dovevo prendere domini e sempre c'è l'into del cazzo una volta ero in fronte adesso è qua vicino perché meno male meno ma questa è fortuna questa è fortuna no 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 uccidilo oro 3 verso il diamante adesso mitico 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 attenzione cosa c'è dai 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 non perdiamo non perdiamo recuperiamo recuperiamo andate dentro andate dentro non può entrare qui dobbiamo stare qui non ci dobbiamo muovere da qui non penso proprio troppo avanti sono adesso sono un po troppo quasi irrecuperabili grande grande grandissimo meno male meno male no 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 uccidete questo uccidetelo cosa cazzo è scoppiato lì sei proprio un porco dai 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 47 stanno dai dai 47 stanno dai 45 stanno dai 45 stanno dai Grazie a tutti